Siamo giunti all'ottava ed ultima corsa all'ippodromo delle capannelle premio ZAMIA FC Trisquartè Quintè riservata a soggetti di 4 anni impegnati sui 2100 metri Non è della partita Senna del Pino, rimangono in 11 al via L'uno Scheller Go, due Sannis, tre Sinfonia d'Amore, quattro Solo Dazero, cinque Sagunto, sette Suertes Cage In seconda fila, otto Sexy Model, nove Smash Drive SM, dieci Scintilla Caff, undici Shaza Chiudo con il 12, Sumiglion, Shaza favorito quando il gioco è ancora aperto 2,79 la quota per l'allievo di Lucio Becchetti, macchina che lancia i concorrenti Renuncia a lancio Scheller Go, parte piano anche Sinfonia d'Amore E allo stacco, Sagunto prova a prendere la testa della corsa Partita molto più sollecita del solito Suertes Cage che già lì con i primi Poi Solo Dazolo, anche lui partito molto celermente, ancora Sannis Sagunto scivola al comando, Suertes Cage deve trovare la corda che viene negata da Sannis Adesso prova a ripiegare in quarta posizione Roberto Vecchione Manovra che riesce al millimetro, poco prima dei 400 rifiniti in 29,7 da Sagunto Manovra che non riesce anzi per Roberto Vecchione perché Sinfonia d'Amore Ha tenuto i piedini di dentro e allora si deve adeguare all'esterno Suertes Cage Mentre Sagunto come al solito in prima la corsa un ritmo costante, abbastanza alto La seconda paria dietro a Suertes Cage è presa da Sumiglion che precede Shaza Ancora Scintilla Caf, scusate, chiude il gruppo Smash Slide Il volo di Shaza che scavalca Suertes Cage dopo che il mezzo mio se n'è andato in 1,1,2 Si porta a contatto di Sagunto che rifinisce il chilometro iniziale in 1,15,5 14,2 la retta con Shaza che si è scavato il posto dietro al leader Solo Dasolo perde qualche metro Suertes Cage all'esterno, si trascina sempre Sumiglion, frazioni in curve in 15,8 1,31,3,3 quarti di miglio con Sagunto sempre in vantaggio Shaza fa una mezza ruota per anticipare le puntate di Sumiglion in quarta ruota di Smash Street SM 600 alla fine, altra frazione in sverta in 14,9 con Shaza che ha liquidato Sagunto I due seguiti da Sumiglion e Smash Slide Sumiglion non ha speso nulla fino a questo momento E fila a Shaza che è passato in vantaggio Poi Smash Slide SM Ingresso della retta arrivo, prova a farsi notare anche Scintilla Caf Shaza se ne va, se ne va l'ingresso della retta arrivo Prende tre lunghezze di vantaggio a Sumiglion Poi Smash Slide SM che lotta con Sagunto Ancora Scintilla Caf, retta d'arrivo con Shaza Che deve controllare e lo fa facilmente L'ultimo affondo di Sumiglion Shaza nel finale Vince da cavallo superiore Su Sumiglion, Smash Slide SM, Scintilla Caf E solo D'Asolo 2,29,5 la distanza Una misura ufficiosa intorno all'1,14,7 per Shaza Era declassato, rimaneva su due terzi posti in Gran Premio Guidato con molta fiducia da Lucio Becchetti Che neanche il trener, i colori della scuderia Robin La quota alto da rizzatore 2,93, al secondo posto il numero 12 Sumiglion Al terzo il 9, Smash Slide SM Quarta posizione per il 10, Scintilla Caf Chiude il quinte, il numero 4 Solo D'Asolo Quarta posizione per il 10, Scintilla Caf